La pace sia con noi, con il suo spirito. Sorelle e fratelli carissimi, ci ritroviamo questa sera, in questa veglia di preghiera, per ricordare i settant'anni dal giorno in cui la venerata immagine dell'Immacolata fu incoronata. Vogliamo manifestare il nostro amore e la nostra nore a Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che con la sua disponibilità ad accogliere l'incarnazione di Dio nel suo greco, ha reso possibile che Cristo fosse il centro della nostra vita. Tutti siamo qui per fissare gli occhi, casti profondi e cristallini, del volto materno della bellissima donna di Nazareth e dirle Madre, e per affidare la nostra città alla sua protezione. Come i nostri padri erano tenati, a lei dobbiamo volgere lo sguardo, perché ci accompagni nel nostro cammino. A lei dobbiamo volgere il nostro cuore, perché lo presenti al figlio suo. Affidiamoci a lei, perché attraverso la sua intercessione possiamo anche noi, a partire da questi giorni, intraprendere un cammino in cui sappiamo affidarci a Cristo, non solo nei momenti belli, ma anche nei momenti difficili della nostra vita, e realizzare insieme la città della vita. Preghiamo. 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 In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio?». Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Artissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e venirà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà figlio. Allora Maria disse all'angelo «Come appena questo, poiché non conosco l'uomo?». Le rispose l'angelo «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio». Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia concepita anch'essa un figlio. «E questo è il sesto mese per lei, che era detta steno, nulla è impossibile a lei». Allora Maria disse «Ecco la serpa del Signore, attenga per me secondo la tua parola». «E l'angelo sia lontano da lei, che l'angelo sia lontano da lei». Parola del Signore. Parola del Signore Per vivere la bellezza di questo incontro sotto lo sguardo di Maria, non pensavo sinceramente di trovare tanto gente e vi dico grazie perché siamo pronti, anche se magari tanti sono indifferenti dal momento che stiamo vivendo non ha importanza, è bello vedervi così, il vostro sguardo è voluto allo sguardo di Maria, i vostri occhi che vogliono incrociare gli occhi di Maria e quella corona realizzata settant'anni fa è qualcosa di veramente straordinario, realizzata con le fedi della gente di Torre. E allora guardiamone, in lei, fratelli e sorelle, l'amore di Dio ha trovato terra fertile, spazio libero, luogo accogliente. in lei, la fedeltà e l'amore si è realizzata pienamente. Maria si è fidata di Dio, si è affidata a Lui. Perché vi dico questo? Perché carissimi, noi oggi facciamo molta fatica a fidarci. C'è una diffidenza che dilaga. l'uomo vivella in cui sia fatta la tua volontà come il cielo così interno. C'è una diffidenza che gliel'amore di Dio ha trovato terra in cui sia fatta la tua volontà come l'amore di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Pagni d'argete. Sono andata da noi per noi, Gesù. Ma fine, cosa sera? E' vera, prima è. Pagni d'argete. Ci sono bene, Gesù. Chi è benedetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.